Siamo qua per celebrare il 124esimo anno della Prampolini, per voi è un compleanno però del tutto particolare, qual è l'emozione di questo momento? Allora io in questo momento ho la stessa identica emozione del giorno del mio matrimonio, cioè Tagliardia, Moniche Sudano e tantissima gente che è venuta sia dalla libreria, non solo stretta, ma anche dalla libreria Prampolini, quindi ringrazio tutti intanto. Io sto realizzando ora, mi sta succedendo tutta questa cosa, non lo so, mi sto rendendo conto adesso che la gente che gira, che c'è un seguito, la gente ci vuole bene, le persone che amano questo luogo sono tante, quindi grazie a tutti e boh, non lo so, succederà qualcosa, a un certo punto succederà qualcosa. Buon compleanno! Grazie, buon compleanno da Prampolini! Grazie.